Avvocato Pizza si chiude, la scelta di chiudere qui a Sant'Ommaso intanto? Intanto per testimoniare un affetto e una vicinanza ai quartieri in generale di Avellino, ma soprattutto Sant'Ommaso che è un luogo dove sono stati eletti tanti consiglieri, dove sono tanti consiglieri che potranno essere eletti. È un po' il simbolo, un quartiere come simbolo della città, come attenzione ai quartieri, come attenzione alle periferie per dimostrare che questa amministrazione non li trascurerà, non li abbandonerà. Tra poco salirà sul palco, noi l'abbiamo fermata, la vedo emozionata intanto. Che cosa dirà a queste persone? Ripercorreremo un po' questa campagna elettorale. Un saluto, un ringraziamento a tutti quelli che l'hanno condivisa con me. Chiaramente un invito a proseguire questo ultimo miglio che manca per la fine di questa campagna elettorale. Quindi un invito poi a votare per me e per la mia lista. Lei ha puntato molto sull'ascolto in questa campagna elettorale? Sì, l'ascolto come vicinanza alla gente per dimostrare che l'amministrazione deve immedesimarsi nei problemi della città e quindi deve prima di tutto ascoltarli per comprenderli e per poi trovare le soluzioni. Bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie.